Paola Barale non è mai stata così schietta, la conduttrice ha ricordato a Verissimo le sue storie d'amore del passato, sugli ex, e sul presente, sono aperta ad ogni tipo di esperienza, ma scopriamo cosa ha annunciato la donna, sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi, e, una Paola Barale gli è raccontata nell'ultima intervista rilasciata a Verissimo, in cui ha parlato dei suoi due grandi ex della sua vita, ovvero Raz Degan e Gianni Sperti, sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia di farmi raccontare bugie, confessa, poi ha continuato, ho subito mancanze importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità sostiene ora ho imparato a stare da sola e mi voglio molto bene, non sono riuscita a restare amica dei miei ex, alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo, nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, dimostrare la loro vera natura, sono fatti della stessa essenza, tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso, non sappiamo a quale verità si riferisse.